La mappa del malandrino Madame Pomfrey insistette per trattenere Harry in infermeria per tutto il fine settimana. Lui non discusse e non si lamentò, ma non le permise di buttare via i miseri resti della sua Nimbus 2000. Sapeva che era stupido, sapeva che la Nimbus non poteva essere riparata, ma era più forte di lui. Era come se avesse perduto uno dei suoi migliori amici. Harry ebbe fiumi di visitatori, tutti decisi a tenerlo di buon umore. Hagrid gli mandò un mazzo di fiori infestato da forficole, che sembravano cavoli gialli, e Ginny Weasley, arrossendo furiosamente, si presentò con un biglietto d'auguri che aveva fatto lei e che cantava a squarciagola, a meno che Harry non lo tenesse chiuso sotto la ciotola della frutta. La squadra dei Grifondoro tornò a fargli visita domenica mattina, questa volta accompagnata da Wood, che con voce cupa e desolata assicurò a Harry che non lo riteneva assolutamente responsabile della sconfitta. Ron e Hermione si allontanavano dal letto di Harry solo la sera, ma nulla e nessuno poteva far stare meglio Harry, perché nessuno sapeva nemmeno la metà di ciò che lo turbava. Non aveva raccontato a nessuno del gramo, nemmeno a Ron e Hermione, perché sapeva che Ron si sarebbe spaventato e Hermione lo avrebbe preso in giro. Comunque restava il fatto che ormai era apparso due volte e che entrambe le sue apparizioni erano state seguite da incidenti quasi mortali. La prima volta aveva rischiato di essere travolto dal nottetempo, la seconda era volato giù dalla scopa e da una grande altezza. Il gramo aveva intenzione di perseguitarlo fino a ottenere la sua morte, doveva passare il resto dei suoi giorni a guardarsi le spalle dalla bestia? E poi c'erano i dissennatori. Harry si sentiva umiliato tutte le volte che ci pensava. Tutti dicevano che i dissennatori erano orribili, ma nessun altro sveniva tutte le volte che gli si avvicinavano, nessun altro udiva risuonare nella testa l'eco della voce dei propri genitori in punto di morte. Perché Harry ormai sapeva di chi erano quelle grida. Aveva sentito quelle parole, le aveva sentite e risentite durante le ore della notte in infermeria, mentre giaceva sveglio a guardare le strisce di luce lunare sul soffitto. Quando i dissennatori gli si avvicinavano, riascoltava gli ultimi istanti di vita di sua madre, i suoi tentativi di proteggere lui, Harry, da Voldemort e la risata di Voldemort appena prima che la uccidesse. Harry dormiva a sogni agitati, sprofondava in sogni affollati di mani marce appiccicose e di suppliche impietrite e si svegliava di soprassalto, cercando di fissare nella mente la voce di sua madre, cercando di ricordarla. Per Harry fu un sollievo tornare al caos della scuola il lunedì, essere costretto a pensare ad altro, anche se dovette sopportare la persecuzione di Draco Malfoy. Malfoy era quasi fuori di sé per la gioia dopo la sconfitta dei Grifondoro. Finalmente si era tolto le bende e festeggiava il recuperato uso di entrambe le mani, producendosi in ispirate imitazioni di Harry che precipitava dalla scopa. Malfoy trascorse gran parte della lezione di pozioni imitando i dissennatori per tutto il sotterraneo. Ron alla fine non ne poté più e gli lanciò contro un grosso, viscido cuore di coccodrillo che gli si spiaccicò sulla faccia e diede a Piton l'opportunità di togliere 50 punti ai Grifondoro. «Se Piton insegna ancora difesa contro le arti oscure, mi do malato», disse Ron mentre si dirigevano verso l'aula di Lupin dopo colazione. «Guarda chi c'è dentro, il mione!» Ermione spiò dentro la classe. «Tutto bene!» Il professor Lupin era tornato. Aveva proprio l'aria di chi è stato malato. Il suo vecchio mantello pensolava più largo e c'erano ombre scure sotto i suoi occhi. Però sorrisi ai ragazzi mentre prendevano posto e tutti esplosero in un fiume di lamentele sul comportamento di Piton durante la sua assenza. «Non è giusto, era solo una supplenza. Perché ci ha dato dei compiti? Non sappiamo niente dei lupi mannari. Due rotoli di pergamena!» «Avete detto al professor Piton che non c'eravamo ancora arrivati?» chiese Lupin un po' accigliato. «Sì, ma lui ha detto che eravamo indietro. Non ha ascoltato. Due rotoli di pergamena!» Il professor Lupin sorrise all'indignazione sulle loro facce. «Non preoccupatevi, parlerò io col professor Piton. Non dovete fare il tema!» «Oh no!» esclamò Ermione delusa. «Io l'ho già finito!» La lezione fu molto piacevole. Il professor Lupin aveva portato con sé un barattolo di vetro con dentro un fuoco fatuo. Una piccola creatura con una zampa sola dall'aria fragile e innocua che sembrava fatta di fili di fumo. «Attira i viaggiatori nelle paludi!» spiegò il professor Lupin e tutti presero appunti. «Vedete la lanterna appesa alla mano?» «Lui avanza a saltelli, la gente segue la luce e poi...» Il fuoco fatuo emise un rumore orrendo e si scagliò contro il vetro. Quando suonò la campana tutti raccolsero i libri e si diressero alla porta, compreso Harry. «Ma...» «Aspetta un momento, Harry!» disse Lupin. «Vorrei parlarti!» Harry tornò indietro e osservò il professor Lupin che ricopriva il barattolo del fuoco fatuo con un telo. «Mi hanno detto della partita?» disse Lupin, tornando verso la cattedra e cominciando a stipare la valigetta di libri. «E mi dispiace per la tua scopa. C'è qualche speranza di ripararla?» «No», disse Harry. «L'albero l'ha fatta a pezzi». Lupin sospirò. «Hanno piantato il salice schiaffeggiante l'anno che sono arrivato a Hogwarts. Allora facevamo un gioco, bisognava cercare di avvicinarsi e toccare il tronco. Alla fine un ragazzo, David Gajon, ha quasi perso un occhio e c'è stato proibito di avvicinarci. Sarebbe ora di sradicarlo. Ne parlerò con il professor Silente». «Le hanno detto anche dei dissennatori?» chiese Harry a fatica. Lupin gli scoccò un rapido sguardo. «Sì, credo che nessuno abbia mai visto il professor Silente così infuriato. Sono irrequieti da un po' di tempo. Sono arrabbiati perché si rifiuta di farli entrare nell'area della scuola. E' per quello che sei caduto, immagino». «Sì», disse Harry. Esitò e poi la domanda gli salì spontanea alle labbra. «Perché? Perché mi tormentano così? Sono solo...» «Non ha niente a che vedere con la debolezza», disse il professor Lupin seccamente, come se gli avesse letto nel pensiero. «I dissennatori tormentano te più degli altri perché nel tuo passato ci sono cose terribili che gli altri non hanno vissuto». Un raggio di sole invernale attraversò la classe illuminando i capelli grigi di Lupin e i segni sul suo giovane volto. I dissennatori sono le creature più disgustose della terra. Infestano i luoghi più cupi e sporchi, esultano nella decadenza e nella disperazione, svuotano di pace, speranza e felicità l'aria che li circonda. Perfino i babbani avvertono la loro presenza anche se non li vedono. Se ti avvicini troppo a un dissennatore, ogni sensazione piacevole, ogni bel ricordo ti verrà succhiato via. Se appena può, il dissennatore si nutrirà di te abbastanza a lungo da farti diventare simile a lui, malvagio e senza anima. Non ti rimarranno altro che le peggiori esperienze della tua vita e le cose peggiori che sono successe a te, Harry, bastano a far precipitare chiunque da una scopa. Non hai niente di cui vergognarti. Quando mi si avvicinano, Harry fissò la cattedra di Lupin con la gola stretta. Sento Voldemort che uccide mia madre. Lupin fece un gesto improvviso, come se volesse mettere una mano sulla spalla di Harry, ma poi ci ripensò. Ci fu un attimo di silenzio e poi... Perché sono venuti alla partita? disse Harry amaramente. Cominciano ad aver fame, rispose Lupin tranquillo, chiudendo la valigetta con un colpo secco. Silente non li lascia entrare a scuola, quindi la loro provvista di prede umane si è esaurita. Credo che non abbiano resistito al pensiero della folla attorno al campo da Quidditch. Tutta quell'eccitazione, le emozioni al massimo, per loro è come un banchetto. Azkaban deve essere un posto tremendo, mormorò Harry. Lupin annui cupo. La fortezza si trova su un'isoletta in mezzo al mare, ma non servono mura e acqua per trattenere i prigionieri, non quando sono tutti intrappolati nelle proprie teste, incapaci di formulare un solo pensiero allegro. Quasi tutti impazziscono entro qualche settimana. Ma Sirius Black è fuggito, disse Harry lentamente. Ce l'ha fatta! La valigetta di Lupin scivolò dalla cattedra. Lui la ferrò di scatto prima che cadesse. Sì, confermò rialzandosi. Black deve aver trovato il modo di combatterli. Non l'avrei creduto possibile. I dissennatori sono in grado di prosciugare un mago dei suoi poteri se rimane nelle loro mani troppo a lungo. Ma lei è riuscito a mandar via quel dissennatore sul treno, disse Harry all'improvviso. Ci sono delle difese a cui si può ricorrere, disse Lupin. ma c'era un solo dissennatore sul treno. Più sono più è difficile resisterli. Quali difese? chiese subito Harry. Me le puoi insegnare? Non ho la pretesa di essere un esperto nella lotta ai dissennatori, Harry. Tutt'altro. Ma se i dissennatori vengono a un'altra partita di Quidditch, io devo saperli combattere. Lupin guardò il volto determinato di Harry, esitò, poi disse «Beh, d'accordo, cercherò di aiutarti, ma temo che dovremo aspettare il prossimo trimestre. Ho molto da fare prima delle vacanze. Ho scelto un momento molto poco opportuno per ammalarmi. Un po' per la promessa di Lupin di dargli qualche lezione anti-dissennatore, un po' per il pensiero che forse non avrebbe mai più dovuto riascoltare la morte di sua madre, un po' per il fatto che Corvo Nero aveva schiacciato Tassofrasso nell'incontro alla fine di novembre l'umore di Harry migliorò decisamente. Grifondoro, dopo tutto, non era fuori gara, anche se non poteva permettersi di perdere un'altra partita. Wood tornò in possesso della sua energia frenetica e fece lavorare la squadra come sempre nei turbini di pioggia gelida che continuarono anche in dicembre. Harry non vide traccia di dissennatori nel territorio della scuola. La furia di Silente sembrava trattenerli nelle loro postazioni agli ingressi. Due settimane prima della fine del trimestre il cielo si illuminò all'improvviso di un candore opalino e abbagliante e una mattina i prati fangosi si ricoprirono di gelo lucente. Nel castello c'era aria di Natale. Il professor Flitwick, l'insegnante di incantesimi, aveva già decorato le classi con luci scintillanti che si rivelarono essere autentiche fate svolazzanti. Gli studenti discutevano allegramente dei loro progetti per le vacanze. Sia Ron che Hermione avevano deciso di rimanere a Hogwarts e anche se Ron disse che era perché non poteva sopportare l'idea di due settimane compersi e Hermione insistette che aveva bisogno di andare in biblioteca, Harry sapeva benissimo che lo facevano per tenergli compagnia e gliene fu molto grato. Con gran gioia di tutti tranne Harry l'ultimo fine settimana del trimestre fu programmata un'altra gita a Hogsmeade. Possiamo comprare lì i regali di Natale disse Hermione. I miei andranno matti per i fil di menta interdentali di Mielandia. Rassegnato al fatto che sarebbe stato l'unico studente del terzo anno a rimanere al castello Harry prese in prestito da Wood una copia di Guida alla scelta della scopa e decise di passare la giornata a informarsi sulla fabbricazione delle scope. Agli allenamenti cavalcava una scopa in dotazione alla scuola una vecchia stella sfriccia che era molto lenta e instabile. Decisamente aveva bisogno di una scopa nuova. Il sabato mattina della gita a Hogsmeade Harry salutò Ron e Hermione imbacucati in mantelli e sciarpe. Poi salì da solo la scalinata di marmo e si diresse verso la torre di Grifondoro. Fuori aveva cominciato a nevicare e il castello era molto tranquillo. Psst! Harry! A metà del corridoio del terzo piano si voltò e vide George e Fred che lo guardavano sporgendosi da dietro la statua di una strega gobba con un occhio solo. Che cosa fate? chiese Harry incuriosito. Perché non siete andati a Hogsmeade? Era per fare un po' di festa con te prima di partire disse Fred con una misteriosa strizzatina d'occhi. Vieni! Indicò una classe vuota sulla sinistra della statua orba. Harry seguì Fred e George. George chiuse piano la porta e si voltò sorridendo. regalo di Natale in anticipo per te Harry. Con un gesto teatrale Fred trasse qualcosa da sotto il mantello e lo posò su un banco. Era un foglio di pergamena grande quadrato molto consunto assolutamente vuoto. Harry sospettando uno degli scherzi di Fred e George lo fissò. Che cosa dovrebbe essere? Questo Harry è il segreto del nostro successo disse George sfiorando il foglio. Darlo a te è una vera sofferenza disse Fred ma ieri sera abbiamo deciso che tu ne hai più bisogno di noi. Comunque lo sappiamo a memoria disse George lo affidiamo a te a noi non serve più e cosa me ne faccio di una vecchia pergamena chiese Harry una vecchia pergamena esclamò Fred chiudendo gli occhi con una smorfia come se Harry lo avesse offeso a morte spiega tu George beh quando eravamo al primo anno Harry giovani spensierati e innocenti Harry sbuffò dubitava che Fred e George fossero mai stati innocenti beh più innocenti di adesso abbiamo avuto qualche guaio con Filch abbiamo buttato una cacca bomba nel corridoio e questo l'ha fatto arrabbiare chissà perché così ci ha trascinato nel suo ufficio e ha cominciato a minacciarci con il solito repertorio di punizioni e squartamenti e noi non abbiamo potuto fare a meno di notare un cassetto in uno dei suoi armadi con sopra scritto cose requisite pericolo non vorrete dire che esordì Harry sorridendo beh tu che cosa avresti fatto chiese Fred George l'ha distratto lanciando un'altra cacca bomba io ho aperto il cassetto e ho preso questa non è una brutta azione come sembra sai disse George sospettiamo che Filch non abbia mai scoperto come usarla probabilmente aveva una vaga idea di che cosa era altrimenti non avrebbe requisita e voi sapete come usarla ma certo disse Fred con un ghigno questo tesorino ci ha insegnato più cose di tutti gli insegnanti della scuola messi insieme volete prendermi in giro disse Harry guardando la vecchia pergamena strappata ma davvero disse George estrasse la bacchetta sfiorò il foglio e disse giuro solennemente di non avere buone intenzioni e all'improvviso sottili righe d'inchiostro cominciarono a spuntare come una ragnatela dal punto in cui la bacchetta di George aveva toccato il foglio si univano si incrociavano si allargavano in tutti gli angoli della pergamena parole presero a fiorire in testa alla pagina grosse parole verdi e aggraziate che proclamavano i signori luna storta coda liscia felpato e ramoso consiglieri e alleati dei magici malfattori sono fieri di presentarvi la mappa del malandrino era una mappa che mostrava ogni particolare del castello e del parco di Hogwarts ma la cosa davvero sorprendente erano le minuscole macchie d'inchiostro che si muovevano sulla carta ciascuna contrassegnata da un nome scritto molto piccolo su un cartiglio stupefatto Harry si curvò sulla cartina una macchiolina con il suo cartiglio nell'angolo superiore sinistro mostrava il professor silente intento a camminare su e giù per il suo studio il gatto del custode mrs norris si aggirava per il secondo piano e pivsi il poltergeist al momento attraversava a balzi la sala dei trofei e mentre il suo sguardo percorreva i familiari corridoi Harry notò qualcos'altro la mappa mostrava una serie di passaggi segreti che non aveva mai esplorato e molti di essi avevano l'aria di condurre dritto a Hogsmeade disse Fred indicandone uno col dito ce ne sono sette in tutto ora Filch conosce questi quattro e li segnò ma siamo certi di essere i soli a conoscenza di questi lascia perdere quello dietro lo specchio del quarto piano l'abbiamo usato fino all'inverno scorso ma c'è stata una frana e adesso è bloccato e crediamo che nessuno abbia mai usato questo perché il salice schiaffeggiante si trova proprio sopra l'entrata ma questo porta dritto nella cantina di Mielandia l'abbiamo usato un sacco di volte e come avrai notato l'ingresso è fuori da questa stanza si passa dalla gobba di quella vecchiaccia orba l'una storta coda liscia felpato e ramoso sospirò George accarezzando la parte superiore del foglio gli dobbiamo così tanto nobili signori che hanno lavorato instancabilmente per aiutare una nuova generazione di fuorilegge disse Fred solennemente giusto aggiunse George in tono vivace e non dimenticare di cancellarla dopo che l'hai usata altrimenti potranno leggerla tutti disse Fred in tono d'avvertimento devi solo darle un altro colpetto e dire fatto il misfatto e sparirà tutto allora giovane Harry disse Fred in un'inquietante imitazione di Percy comportati bene ci vediamo da Mielandia disse George con una strizzatina d'occhi e i due giamelli uscirono con una smorfia soddisfatta Harry rimase lì a fissare la mappa miracolosa osservò la minuscola Mrs. Norris d'inchiostro girare a sinistra e fermarsi ad annusare qualcosa per terra se Filch davvero non sapeva non avrebbe dovuto passare davanti ai disennatori ma mentre era lì invaso dall'eccitazione gli venne in mente una cosa detta tempo prima dal signor Weasley non fidarti mai di una cosa che pensa da sé se non sai dove hai il cervello la mappa era uno di quei pericolosi oggetti magici da cui il signor Weasley li aveva messi in guardia consiglieri e alleati dei magici malfattori ma comunque ragionò Harry lui voleva usarla solo per andare a Hogsmeade non era come se volesse rubare qualcosa o aggredire qualcuno e Fred e George l'avevano usata per anni e non era successo niente di terribile Harry seguì con la punta del dito il passaggio segreto che portava a Mielandia poi all'improvviso come rispondendo a un ordine arrotolò la mappa la infilò sotto gli abiti e corse alla porta della classe la socchiuse non c'era nessuno fuori con grande cautela uscì dalla stanza e si infilò dietro la statua della strega con un occhio solo che cosa doveva fare estrasse di nuovo la mappa e vide con grande stupore che era comparsa una nuova figurina d'inchiostro con sotto un cartiglio che diceva Harry Potter la figurina si trovava esattamente dove si trovava il vero Harry Potter circa a metà del corridoio del terzo piano Harry la guardò con attenzione il suo minuscolo doppio d'inchiostro stava colpendo la strega con la sua microscopica bacchetta Harry prese rapidamente la sua bacchetta e colpì la statua non successe nulla guardò di nuovo la mappa vicino alla figurina era comparsa una minuscola nuvola con dentro una parola Dissendium Dissendium sussurrò Harry dando di nuovo un colpetto alla strega di pietra subito la gobba della statua si aprì quel tanto che bastava a far passare una persona piuttosto esile Harry diede una rapida occhiata su e giù per il corridoio poi ripose la mappa si infilò nel buco a testa in giù e si spinse in avanti sdrucciolò per un bel tratto lungo quello che sembrava uno scivolo di pietra poi atterrò sul terreno freddo e umido si alzò e si guardò intorno era buio pesto alzò la bacchetta mormorò Lumos e vide che si trovava in un cunicolo molto stretto basso scavato nel terriccio prese la mappa la colpì con la punta della bacchetta e mormorò fatto il misfatto la mappa si cancellò subito Harry la piegò con cura la mise via di nuovo e poi col cuore che batteva forte eccitato e preoccupato insieme partì il passaggio era tutto curve e zigzag un po' come la tana di un coniglio gigante Harry lo percorse in fretta inciampando spesso sul terreno sconnesso la bacchetta sfoderata davanti a sé gli ci volle un secolo ma il pensiero di Mielandia lo sosteneva dopo quella che gli parve almeno un'ora il passaggio cominciò a salire ansante Harry accelerò il viso bollente i piedi gelati dieci minuti dopo giunse a una gradinata di pietra consunta che partiva davanti a lui e si perdeva nel buio stando attento a non far rumore Harry prese a salire cento gradini duecento gradini perse il conto guardandosi i piedi poi a sorpresa urtò con la testa contro qualcosa di duro sembrava una botola Harry rimase lì a massaggiarsi la testa in ascolto sopra di lui non si sentiva nessun rumore molto lentamente spinse la botola la socchiuse e spiò fuori si trovava in una cantina piena di casse e scatole di legno Harry uscì dalla botola e la richiuse combaciava così perfettamente con il pavimento polveroso che era impossibile individuarla Harry strisciò lentamente verso la scala di legno che portava di sopra ora sentiva delle voci oltre al tintinio di un campanello e a una porta che si apriva e si chiudeva incerto sul da farsi all'improvviso sentì una porta spalancarsi molto più vicino qualcuno stava per scendere e prendi un'altra scatola di lumache gelatinose caro sono quasi finite disse una voce femminile un paio di piedi scendeva le scale Harry balzò dietro una cassa enorme e attese che i passi sparissero sentì che l'uomo spostava delle scatole contro il muro di fronte forse non avrebbe avuto un'altra possibilità svelto e silenzioso Harry sbucò dal suo nascondiglio e salì le scale guardò indietro e vide una schiena immensa e una lucida testa calva sprofondate in una scatola Harry raggiunse la porta in cima alle scale la superò e si trovò dietro il banco di Mielandia si chinò strisciò di lato e poi si alzò Mielandia era così affollato di studenti di Hogwarts che nessuno notò Harry il ragazzo si fece largo tra loro guardandosi intorno e soffocò una risatina immaginando lo stupore sulla faccia porcina di Dudley se avesse potuto vederlo in quel momento c'erano scaffali su scaffali di dolci e caramelle i più deliziosi che si potessero immaginare blocchi di torrone cremoso quadrotti rosa lucenti coperti di glassa al cocco mu color del miele centinaia di tipi diversi di cioccolato disposti in pile ordinate c'era un barile di gelatine tutti gusti più uno e un altro di api frizzole i confetti frizzanti che facevano levitare di cui aveva parlato Ron lungo un'altra parete c'erano le caramelle effetti speciali le gomme bolle drubol che riempivano una stanza di palloni colorgenziana che si rifiutavano di scoppiare per giorni interi i curiosi frammenti di fil di mente interdentali le minuscole piperille nere sputate fuoco davanti ai vostri amici i topoghiacci per far squittire i vostri denti i rospi alla menta saltano nello stomaco come se fossero veri fragili penne d'oca di zucchero caramellato e bombone esplosivi Harry si infilò in un crocchio di ragazzi del sesto anno e vide un cartello appeso nell'angolo più lontano del negozio sapori insoliti sotto c'erano Ron e Ermione intenti a esaminare un vassoio di lecca lecca al gusto di sangue Harry si intrufolò alle loro spalle beh no a Harry non piaceranno sono per vampiri immagino stava dicendo Ermione e questi chiese Ron infilando un barattolo di scarafaggi a grappolo sotto il naso di Ermione direi proprio di no disse Harry Ron fece quasi cadere il barattolo Harry squitti Ermione che cosa ci fai qui come come hai wow disse Ron impressionato hai imparato a materializzarti certo che no disse Harry abbassò la voce per non farsi sentire da quelli del sesto anno e raccontò loro della mappa del malandrino e come mai Fred e George non l'hanno mai data a me esclamò Ron offeso sono loro fratello ma Harry non se la terrà disse Ermione come se l'idea fosse ridicola la consegnerà alla professoressa McGonagall vero Harry niente affatto disse Harry sei impazzita disse Ron a Ermione sgranando gli occhi consegnare è una cosa così utile se la consegno dovrò dire dove l'ho presa Filch scoprirebbe che l'hanno rubata Fred e George e Sirius Black disse Ermione in un soffio potrebbe usare uno dei passaggi che ci sono su quella mappa per entrare nel castello gli insegnanti lo devono sapere non può entrare attraverso un passaggio segreto disse Harry in fretta ce ne sono sette sulla mappa giusto Fred e George suppongono che Filch ne conosca già quattro quanto agli altri tre uno è bloccato quindi nessuno può prenderlo uno ha il salice schiaffeggiante è piantato sull'ingresso quindi di lì non si può uscire e quello che ho appena usato beh è molto difficile vedere l'entrata giù in cantina quindi a meno che non sapesse già della sua esistenza Harry esitò e se Black sapeva di quel passaggio Ron comunque si schiarì la voce in maniera eloquente e indicò un cartello appeso all'interno della porta del negozio per ordine del ministero della magia si ricorda alla clientela che fino a ulteriore comunicazione i dissennatori pattuglieranno le strade di Hogsmeade tutte le notti dopo il calar del sole questa misura è stata presa per garantire la sicurezza degli abitanti di Hogsmeade e sarà revocata solo dopo la cattura di Sirius Black è quindi consigliabile portare a termine le compere ben prima del tramonto buon Natale visto disse piano Ron vorrei proprio vederlo Sirius Black che cerca di entrare da Mielandia con il villaggio che brulica di dissennatori comunque Hermione i proprietari di Mielandia lo sentirebbero se ci provasse non credi abitano sopra il negozio sì ma ma Hermione sembrava decisa a trovare un altro problema insomma Harry non dovrebbe venire comunque a Hogsmeade non ha il permesso firmato se qualcuno lo scopre finirà nei guai e guai seri e non è ancora il calar del sole cosa succede se Sirius Black si fa vedere oggi adesso magari farebbe una bella fatica a trovare Harry là in mezzo disse Ron indicando con un cenno la neve fitta che vorticava oltre le finestre a pannelli dai Hermione è Natale Harry si merita una tregua Hermione si morse le labbra sembrava molto preoccupata ha intenzione di denunciarmi le chiese Harry con un sorriso oh certo che no ma davvero Harry hai visto le apifrizzole Harry disse Ron trascinandolo verso un barile e le lumache gelatinose e i pallini acidi Fred me ne ha dato uno quando avevo sette anni mi ha fatto un buco nella lingua mi ricordo che mamma gliele ha date con la scopa Ron fissò la scatola dei pallini acidi sopra pensiero chissà se Fred mangerebbe un po' di scarafaggi a grappolo se gli dico che sono noccioline quando Ron e Hermione ebbero pagato tutti i dolci il terzetto uscì da Mielandia e si tuffò nella tormenta Hogsmeade sembrava un biglietto natalizio i piccoli cottage col tetto spiovente e i negozi erano coperti da uno strato di neve fresca c'erano ghirlande di agrifoglio sulle porte e candele incantate appese agli alberi Harry tremava a differenza degli altri due non aveva il mantello risalirono la via le teste chine contro il vento Ron e Hermione intenti a urlare attraverso le sciarpe quello è l'ufficio postale zonco è da quella parte potremo andare fino alla stamberga strillante sapete cosa vi dico propose Ron con i denti che battevano perché non andiamo a prenderci una burro birra ai tre manici di scopa Harry era più che d'accordo il vento era tagliente e lui aveva le mani gelate così attraversarono la strada e dopo qualche minuto entravano nella piccola locanda era molto affollata rumorosa calda e fumosa una donna bentornita con un viso grazioso stava servendo una comitiva di chiassosi stregoni al bancone quella è madame rosmerta disse Ron vado a prendere da bere d'accordo aggiunse arrossendo un pochino Harry e Hermione si fecero strada fino in fondo al locale dove c'era un tavolino libero tra la finestra e un bell'albero di Natale vicino al camino Ron tornò cinque minuti dopo con tre boccali schiumanti di burro birra bollente buon Natale disse allegramente alzando il suo Harry beve a lunghi sorsi era la cosa più squisita che avesse mai assaggiato e gli parve che lo scaldasse tutto da dentro una corrente improvvisa gli scompigliò i capelli la porta dei tre manici di scopa si era riaperta Harry gettò uno sguardo in quella direzione da sopra l'orlo del boccale e la burro birra gli andò di traverso i professori McGonagall e Fritwick erano appena entrati nel pub in un vortice di fiocchi di neve seguiti a poca distanza da Hagrid immerso in una fitta conversazione con un uomo tarchiato che indossava una bombetta verde acido e un mantello gessato Cornelius Fudge ministro della magia in un attimo Ron e Hermione spinsero la testa di Harry sotto il tavolo accoccolandosi al riparo grondante di burro birra Harry strinse spasmodicamente il boccale vuoto e osservò i piedi degli insegnanti e di Fudge avanzare verso il bancone fermarsi poi voltarsi e puntare proprio verso di lui da qualche parte di sopra Hermione sussurrò Mobili Arbus l'albero di Natale accanto al tavolo si sollevò di mezzo metro scivolò di lato e atterrò con un tonfo morbido esattamente davanti al loro tavolo nascondendoli alla vista degli insegnanti attraverso i fitti rami più in basso Harry vide quattro sedi allontanarsi dal tavolo accanto a loro poi sentì i grugniti e i sospiri degli insegnanti e del ministro mentre si sedevano subito dopo vide avvicinarsi un altro paio di piedi calzati in scintillanti scarpe turchese col tacco alto e sentì una voce femminile un'acqua viola piccola per me disse la professoressa McGonagall quattro pinte di idromele aromatico azzie rosmerta disse Hagrid uno sciroppo di ciliegia con seltz ghiaccio e ombrellino mmm disse il professor Flitwick schioccando le labbra quindi il rum di Ribes rosso deve essere suo ministro grazie rosmerta cara disse Fudge è davvero bello rivederti prendi qualcosa anche tu unisciti a noi beh grazie mille ministro Harry vide i tacchi scintillanti allontanarsi e poi tornare indietro il cuore gli pulsava in gola perché non gli era venuto in mente che era l'ultimo fine settimana del trimestre anche per gli insegnanti e quanto sarebbero rimasti riseduti aveva bisogno di tempo per intrufolarsi di nuovo dentro Mielandia se voleva tornare a scuola prima di notte la gamba di Ermione scattò nervosa vicino a lui allora che cosa l'ha portata qui in mezzo ai boschi ministro chiese madame rosmerta Harry vide la parte inferiore del corpo di Fudge agitarsi sulla sedia come per controllare che nei dintorni nessuno origliasse poi disse a voce bassa chi altri mia cara se non Sirius Black credo che tu abbia sentito che cosa è successo su a scuola Halloween mi sono giunte delle voci ammise madame rosmerta l'hai raccontato a tutto il pub a Hagrid chiese la professoressa McGonagall irritata crede che Black sia ancora da queste parti ministro sussurrò madame rosmerta ne sono certo disse seccamente Fudge lo sa che i dissenatori hanno perquisito il mio locale per ben due volte disse madame rosmerta con la voce un po' inclinata mi hanno fatto scappar via tutti i clienti è una cosa che danneggia gli affari ministro rosmerta cara a me non piacciono più che a te disse Fudge imbarazzato una precauzione necessaria spiacevole ma insomma ne ho appena incontrati alcuni sono furiosi con Silente non gli lascio metter piede nel territorio del castello direi proprio di no disse la professoressa McGonagall decisa come faremmo a insegnare con quegli orrori in circolazione infatti infatti squitti il piccolo professor Flitwick con i piedi che pensolavano dalla sedia comunque insistette Fudge loro sono qui per proteggervi tutti da qualcosa di assai peggiore sappiamo tutti di che cosa è capace Black lo sa che faccio ancora fatica a crederci disse madame rosmerta pensierosa di tutti quelli che passano al lato oscuro Sirius Black era l'ultimo che mi sarei immaginata voglio dire me lo ricordo da ragazzo a Hogwarts se lei mi avesse detto allora che cosa sarebbe diventato avrei pensato che forse aveva bevuto troppo idromele non hai la più pallida idea di quello che ha fatto rosmerta disse Fudge burbero le cose peggiori non sono note ai più le cose peggiori chiese madame rosmerta incuriosita peggio che uccidere tutta quella povera gente intende dire proprio così rispose Fudge non ci posso credere che cosa potrebbe essere peggio di questo dici che te lo ricordi a Hogwarts rosmerta mormorò la professoressa McGonagall ti ricordi chi era il suo migliore amico ma certo rispose madame rosmerta con una risatina dove c'era uno c'era anche l'altro vi ricordate quante volte sono stati qui oh mi facevano ridere come che coppia Sirius Black e James Potter Harry lasciò cadere il boccale che finì a terra con un tonfo Ron gli sferrò un calcio precisamente disse la professoressa McGonagall Black e Potter i capi della loro piccola banda tutti e due molto brillanti e ovvio straordinariamente brillanti in effetti ma non credo che a scuola ci siano mai state delle pesti come loro mica lo so disse agride ridacchiando Fred e George Weasley mi sa che gli darebbero del filo da torcere a quelli sì sembrava che Black e Potter fossero fratelli intervenne il professor Flitwick inseparabili ma certo disse Fudge Potter si filava di Black più che di ogni altro suo amico quando finirono la scuola nulla cambiò Black fece da testimone quando James sposò Lily poi lo scelsero come padrino di Harry Harry non lo sa naturalmente potete immaginare come l'idea lo torturerebbe perché Black alla fine si è rivelato complice di voi sapete chi sussurrò Madame Rosmerta molto peggio mia cara Fudge abbassò la voce e continuò in una sorta di basso bruntolio i Potter sapevano che voi sapete chi dava loro la caccia Silente che naturalmente lavorava senza sosta per fermare voi sapete chi aveva parecchie utili spie una di loro lo avvertì e lui lo disse subito a James e Lady consigliò loro di nascondersi beh naturalmente non era facile nascondersi da voi sapete chi Silente disse loro che la cosa migliore era usare l'incanto Fidelius come funziona chiese Madame Rosmerta col fiato sospeso per la curiosità il professor Flitwick si schiarì la voce è un incantesimo incredibilmente complesso disse stridulo che consiste nel nascondere con la magia un segreto dentro una sola persona vivente l'informazione è nascosta dentro la persona prescelta o custode segreto e quindi è impossibile da trovare a meno che naturalmente il custode segreto non decida di renderla nota finché il custode segreto si fosse rifiutato di parlare voi sapete chi avrebbe potuto perquisire per anni il paesino dove erano nascosti James e Lily senza trovarli nemmeno se fosse andato a sbattere il naso contro la finestra del loro salotto allora Black era il custode segreto dei Potter sussurrò Madame Rosmerta ma certo disse la professoressa McGonagall James Potter disse a Silente che Black sarebbe morto piuttosto che rivelare dove si trovavano che lo stesso Black progettava di nascondersi eppure Silente rimase preoccupato ricordo che si offrì lui stesso come custode segreto per i Potter sospettava di Black chiese Madame Rosmerta sbalordita era certo che qualcuno vicino ai Potter stesse tenendo informato voi sapete chi sui loro spostamenti disse cupamente la professoressa McGonagall in verità da qualche tempo sospettava che qualcuno dalla nostra parte avesse tradito e stesse passando un sacco di informazioni a voi sapete chi ma James Potter insistette per affidarsi a Black sì disse Fudge tetro e poi appena una settimana dopo che l'incanto Fidelius era stato eseguito Black li tradì mormorò Madame Rosmerta proprio così Black era stanco di fare il doppio gioco era pronto a dichiarare apertamente che stava dalla parte di voi sapete chi e pare che avesse progettato di farlo alla morte dei Potter ma come tutti sappiamo voi sapete chi fallì col piccolo Harry Potter svaniti i suoi poteri terribilmente debole fuggì e questo lasciò Black in una posizione molto spiacevole il suo signore era caduto proprio nel momento in cui lui Black aveva mostrato la sua vera anima di traditore non ebbe altra scelta se non fuggire a sua volta sporco schifoso Volcagabbana disse Hagrid così forte che metà degli avventori ammutolirono sssst disse la professoressa McGonagall io l'ho incontrato ringhiò Hagrid devo essere stato l'ultimo che l'ha visto prima che ammazzasse tutte quelle persone sono io che ho portato via Harry dalla casa di Lily e James dopo che li ha uccisi l'ho portato via da quelle rovine povero piccolino con una ferita grossa sulla fronte e i suoi genitori morti e Sirius Black salta fuori con quella sua moto volante non avevo capito che cosa faceva là non sapevo che era il custode segreto dei Potter pensavo che aveva appena sentito la notizia dell'attacco di voi sapete chi e che era venuto a vedere cosa poteva fare tutto bianco e tremante era e sapete che cosa ho fatto ho consolato quel traditore assassino rugì Hagrid Hagrid ti prego disse la professoressa McGonagall parla piano come facevo a sapere che non era disperato per Lily e James invece lui pensava voi sapete chi e poi mi dice dammi Harry Hagrid sono il suo padrino lo curo io ma io avevo ordini precisi da Silente e ho detto a Black che no che Silente ha detto che Harry deve andare da suo zio e sua zia Black ha insistito ma alla fine si è arreso mi ha detto di prendere la sua moto per portare via Harry a me non serve più dice ma io dovevo saperlo che c'era qualcosa che non andava lui amava quella moto perché allora la dava a me perché non gli serviva più perché era troppo facile da trovare Silente lo sapeva che lui era il custode segreto dei Potter Black sapeva che doveva scappare quella notte sapeva che era questione di ore prima che il ministero gli dava la caccia e se gli davo Harry eh ci scommetto che lo buttava giù dalla moto dritto in mare il figlio del suo migliore amico ma quando un mago passa al lato oscuro non c'è niente a nessuno che gli importa più un lungo silenzio seguì il racconto di Hagrid poi Madame Rosmerta disse piuttosto soddisfatta ma non è riuscito a sparire il ministero della magia l'ha catturato il giorno dopo ahimè magari disse Faggio amaramente non siamo stati noi a trovarlo è stato il piccolo Peter Pettigrew un altro amico dei Potter impazzito di dolore senza dubbio sapendo che Black era il custode segreto dei Potter e andato a cercarlo Pettigrew quel ragazzino grasso che gli correva sempre dietro a Hogwarts chiese Madame Rosmerta venerava Black e Potter erano i suoi idoli disse la professoressa McGonagall ma non era dotato come loro spesso sono stata dura con lui potete immaginare come come mi dispiace adesso era come se all'improvviso le fosse venuto il raffreddore su su Minerva disse Faggio gentilmente Pettigrew è morto da eroe i testimoni babbani naturalmente poi abbiamo cancellato i loro ricordi ci hanno raccontato come Pettigrew ha affrontato Black dicono che si inghiozzava Lily e James Sirius come hai potuto e poi ha preso la bacchetta beh naturalmente Black è stato più veloce ha polverizzato Pettigrew la professoressa McGonagall si soffiò il naso e disse con voce confusa stupido ragazzo sciocco ragazzo era sempre un disastro nei duelli doveva lasciar fare al ministero parola mia se ero io a trovare Black prima di Pettigrew non perdevo tempo con le bacchette ma lo squartavo pezzo a pezzo ringhiò Hagrid non sai quello che dici Hagrid disse Faggio Severo nessuno a parte i maghi tiratori scelti della squadra speciale magica sarebbe riuscito a far fronte a Black una volta in trappola io ero viceministro al dipartimento delle catastrofi magiche a quell'epoca e fui uno dei primi ad arrivare dopo che Black uccise tutta quella gente io io non lo scorderò mai a volte me lo sogno ancora un cratere al centro della strada così profondo che aveva distrutto la fognatura corpi dappertutto babbani che urlavano e Black lì in piedi che rideva davanti a ciò che era rimasto di pettigrio un mucchietto di stoffa macchiata di sangue e qualche qualche frammento Faggio si interruppe bruscamente cinque nasi furono soffiati beh adesso lo sai non smerta disse Faggio con voce roca Black fu portato via da venti uomini della pattuglia della squadra speciale magica e pettigrio ricevette l'ordine di merlino prima classe alla memoria che credo fu di qualche consolazione per la sua povera madre da allora Black è sempre rimasto ad Azkaban Madame Rosmerta emise un lungo sospiro è vero che è pazzo ministro vorrei poterlo dire esclamò Faggio lentamente credo che certamente la sconfitta del suo maestro lo abbia messo fuori gioco per un po' l'assassinio di Pettigrio e di tutti quei babbani fu l'atto di un uomo disperato senza via di scampo crudele e inutile ho incontrato Black nella mia ultima ispezione ad Azkaban sapete gran parte dei prigionieri stanno seduti e borbottano tra sé nel buio privi di senno ma vedere come Black sembrava normale mi ha lasciato di stucco mi ha parlato come un essere ragionevole è stato snervante sembrava solo annoiato mi ha chiesto se avevo finito di leggere il giornale tranquillissimo ha detto che gli mancavano i cruciverba sì mi ha stupito lo scarso effetto che i dissennatori sembrano avere su di lui ed era uno dei prigionieri più sorvegliati sapete dissennatori fuori dalla sua cella giorno e notte ma perché crede che si è fuggito chiese Madame Rosmerta santo cielo ministro non starà cercando di riunirsi a lei sa chi vero oserei dire che questo è il suo piano finale disse Faggio evasivo ma speriamo di catturarlo molto prima devo ammettere che voi sapete chi solo e senza complici è una cosa ma ridategli il suo servitore più fedele e tremo al pensiero di come potrebbe risorgere in fretta si udì un lieve tintinnio di vetro contro legno qualcuno aveva posato il bicchiere Cornelius se deve cenare con il preside sarà meglio che ci avviamo verso il castello disse la professoressa McGonagall un paio dopo l'altro i piedi davanti a Harry si caricarono di nuovo del peso dei loro proprietari orli di mantelli fluttuarono di fronte ai suoi occhi e i tacchi scintillanti di madame Rosmerta sparirono dietro il bancone la porta dei tre manici di scopa si aprì di nuovo entrò un altro turbine di neve e gli insegnanti scomparvero Harry i volti di Ron e di Hermione spuntarono sotto il tavolo lo fissarono entrambi senza parole